Quando il processo di acquisto è lungo, questo è un caso limite, però più o meno c'è sempre questa roba qui. Cosa voglio dire? Che qui l'email c'è, questo qui un ebook se l'è scaricato, però non è mai solo questa cosa qui. Bisogna fare in modo di accerchiarlo, quindi nel tuo caso si scarica l'ebook, con l'ebook gli dai un primo contenuto. Poi però oltre all'email gli devi far vedere gli altri contenuti che fai su Facebook, devi stargli dietro nel tempo. Quindi l'ebook o i video probabilmente nel tuo caso potrebbe ancora essere utile. Considera sempre che non è mai solo quel mezzo lì, non è che uno si scarica l'ebook, poi non ti vede più da nessuna parte, continua a leggere solo l'email e poi diventa tuo cliente, perché devi fare anche tutto questo lavoro qua. Cioè devi inseguirlo in remarketing, cioè usa l'ebook, però poi da quel momento in poi ti vede apparire anche su Facebook, stranamente, da quel momento in poi ti vede apparire anche nelle campagne display di Google e lo accerchi. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti.